E' introvabile, dopo una notte e un giorno intero di ricerche, Dino Taraschi, il terramano di 84 anni, allontanatosi da casa in via Melarangelo a Colleparco a Teramo, ieri poco dopo le 16 e me più rientrato. Vigili del fuoco, carabinieri, polizia, croce rossa e decine di volontari di protezione civile, dopo aver battuto diverse aree a ridosso del quartiere, spingendosi con l'ausilio dei sommozzatori, fino a perlustrare anche il corso del Vezola, si stanno concentrando da questo pomeriggio a ridosso dell'abitazione dell'anziano a Colleparco. Vano è stato il tentativo di ritrovarlo a Collecaruno, come era già accaduto due anni fa, ma in quella circostanza Taraschi si era allontanato a bordo della propria auto, questa volta no, è uscito a piedi. Le ricerche coordinate della prefettura di Teramo sono scattate intorno all'una di questa notte, visto che il figlio convivente dell'84enne ha segnalato formalmente la scomparsa dopo mezzanotte. I sommozzatori dei Vigili del Fuoco, arrivati da Roseto all'ora di pranzo, hanno perlustrato il torrente Vezola da sotto Ponte San Gabriele fino a sotto il palazzetto di Scapriano, procedendo parallelamente a Viale Bovio, perché qui, che alle 18.45 di ieri, la cella ha agganciato per l'ultima volta il telefonino ormai spento. I Vigili del Fuoco hanno impiegato anche un drone del reparto Sapro dell'Aquila e un elicottero del reparto Volo di Roma. Le ricerche sono concentrate ora attorno alla residenza in via Melarangelo. Più volte è stato ispezionato anche l'orto di proprietà, sempre a Colleparco, tutto inutile. Di uno Taraschi è alto 1,70 m, sui 70 kg di corporatura media, indossa un paio di occhiali. Al momento della scomparsa indossava un cappello marrone, un paio di jeans e un giubbotto blu. Chiunque dovesse entrare in possesso di informazioni utili alle ricerche, o dovesse avvistarlo, è pregato di contattare subito i numeri di emergenza 112, 113 o 115.